Mitologia, vampiri, grandi rivelazioni e amori che sbocciano! Quarto episodio di Loki, davvero super interessante, denso di cose e anche di dettagli curiosi, lo analizziamo subito! Varianti di Lega Nerd, un saluto da Giacomo e prima di parlare di Loki, torniamo indietro e parliamo di WandaVision perché c'è qualcosa che potrebbe essere connesso con Loki oppure no, la Disney sta giocando a farci impazzire e cambia addirittura delle scene post-credits dopo averle pubblicate, no, non sto impazzendo! Ricordate tutti la scena post-credits della conclusione di WandaVision in cui Wanda, che si era nascosta in uno chalet in mezzo ai boschi, chi inizia a studiare questo tomo, il famoso Darkhold, beh a un certo punto si vede in cielo un effetto speciale che probabilmente prima non c'era nella prima versione originale, con forma trapezoidale che scende dalla montagna. Che cosa vorrà dire tutto questo? A qualcuno è sembrata la cappa di levitazione di Doctor Strange e si è parlato molto della presenza di Doctor Strange, perché poi Multiverse of Madness, lo sappiamo, ci aspettiamo tutti questo film, però le serie tv sembrano effettivamente collegate. Tanto è vero che nei credits finali è stato addirittura aggiunto il tema di Doctor Strange composto da Michael Giacchino, insomma a questo punto mi sa che abbiamo una certezza. Ora a bomba dentro la puntata di Loki che si apre con la triste vicenda di Sylvie, bambina, variante, presa e tirata via letteralmente dagli agenti della TVA, anzi dalla nostra Ravonna Renslayer che era all'epoca agente operativo, Sylvie, che a questo punto non è una Lady Loki ma è una vera e propria versione alternativa di Loki, di una delle varie timeline, sta giocando con una nave vichinga, con una valchiria e poi si nota anche un giocattolo di un grosso lupone che ci sembra essere Fenrir o Fenris che dir si voglia, il lupone che abbiamo visto combattere contro Hulk in Thor Ragnarok e che è effettivamente un personaggio della mitologia norrena, tra l'altro sarebbe un metà Loki, perché Loki è dappertutto. E quindi ecco, ci sembrava un richiamo molto carino che è stato inserito in questo mini dettaglio. Altra cosa curiosa, l'amore o comunque l'affetto molto particolare che sembra sbocciare fra Loki e Sylvie, su cui si gioca molto anche a livello ironico, sarcastico, su questo amore di un narcisista per se stesso, una versione alternativa per se stessa. C'è il dialogo bello in cui dice Loki che sono dei sopravvissuti, non sono dei perdenti, ed effettivamente Loki lo abbiamo visto morire praticamente, credo, in tutti i film, in tutte le opere che abbiamo visto in maniera reale, immaginaria, olografica. Poi chi lo sa se è veramente morta persino la versione, tra virgolette, originale di Loki per mano di Thanos. A questo punto possiamo rimettere tutto in discussione, tanto è vero che anche in questo episodio c'è l'ennesima morte apparente di Loki. Il nostro Mobius poi, in un dialogo con Hunter B-15, nomina Kree, Titani e Vampiri, che sarebbero stati imprigionati e combattuti dagli agenti della TVA. Beh, questa è una citazione palese, Kree, Kree e Skrull. Skrull abbiamo visto nel primo episodio uno che veniva appunto arrestato, i Titani, ma aspettiamo di sapere quali hanno combattuto e quali sono finiti in gattabuia, o direttamente falciati e poi vampiri. I vampiri stanno bene su tutto, ma stando bene soprattutto quando uno dei prossimi importanti film della Marvel sarà quello dedicato a Blade, il cacciatore di vampiri preferito da tutti, che avrà adesso il volto di Marshala Ali, quindi non più il nostro Wesley Snipes, che comunque lo portò alla ribalta in uno dei primi cinecomics, insomma, di peso. e beh, sembra che la Marvel ci stia ricordando che Blade sta per arrivare. Non è poi un caso che quando Loki viene imprigionato nel loop temporale da Mobius ci sia Lady Sif, tra l'altro è sempre bello rivederla, che oltre a gonfiarlo come una zampogna, fa riferimento proprio al taglio di capelli che Loki le ha fatto per dispetto. Anche questa è una leggenda della mitologia norrena Lady Sif, che in realtà aveva una massa di capelli biondi stupendi e lucenti come loro, che piacevano tantissimo a Thor, e ovviamente hanno fatto arrabbiare, indispettire Loki, che prima la addormenta e poi gli ritaglia, e ovviamente succede un casino fra divinità, cui Loki poi è costretto a viaggiare, a incontrare i nani che fabbrichino una parrucca, che splende come il sole, e insomma anche qui gli sceneggiatori di Loki si sono divertiti a prendere a piene mani dal Loki originale. La TVA fa una figura sempre peggiore, mano a mano che gli episodi passano, sempre più autoritaria, sempre più cattiva, sempre più spietata, e ovviamente i piani diabolici sembrano davvero molto complessi. Viene spiegato il perché, il dettaglio della passione che Mobius non sapeva spiegare che ha per le moto d'acqua, finalmente quindi ci viene rivelato che forse era qualcosa che aveva a che fare con la sua vita precedente, ma ci sono degli echi al totalitarismo in questo episodio, il manifesto che vediamo che ricorda tantissimo il grande fratello di 1984, i metodi un po' alla nazista che zittiscono tutti i possibili oppositori, o persone che potrebbero raccontare una verità diversa da parte della TVA, quindi ecco, questo dettaglio certamente, sono sicuro, non vi è sfuggito. E infine, il grande e potente Oz, il mago di Oz, ritorna sempre. C'era in Vandavision, poi ci torniamo, c'è qui, perché, come non pensare, visto quello che risulta essere i custodi del tempo, l'inganno dei custodi del tempo, al mago di Oz, dove si segue la Yellow Brick Road per andare a incontrare un grande e potente stregone che in realtà non è altro che un dispositivo di un imbroglione che inganna gli altri con un'illusione, i timekeepers custodi del tempo sono esattamente la stessa cosa in Loki, sono tre pantocci robotici che sono marionette di ancora non si sa chi, però si seguono degli ascensori dorati, invece che la via di mattoni gialli e dorati, quindi la Yellow Brick Road, per andare in un altro universo con colori un po' fumosi, no? Come esattamente il fumo che veniva lanciato dal mago di Oz per nascondere il suo, diciamo così, inganno agli occhi degli altri. Dicevamo di Vandavision perché il mago di Oz compariva letteralmente all'interno di una inquadratura, e si parla di streghe dopo tutto, e poi, no, c'è una scena in cui Agatha viene lanciata via e rimangono solo i suoi stivali, esattamente come nel film succedeva. Prima di chiudere con le teorie e con la scena fighissima post-credit, pollice su se ti è piaciuto questo video, oppure pollice giù, magari commenta dicendosi cosa non ti è piaciuto, o se hai visto altri dettagli interessanti e cose da analizzare, attiva la campanella per il canale di Lega Nerd. Dunque, chi c'è dietro questi custodi del tempo? Farlocki. Kang il Conquistatore, lo abbiamo detto praticamente dal primo articolo di Zed e dal primo video che ho fatto anch'io qui, perché Ravonna Renslayer, che è un personaggio che compare qui, è di peso, nei fumetti è legata a Kang il Conquistatore, beh, sembrerebbe tutto portare là. Ora, l'attore Jonathan Majors, che dovrebbe interpretare Kang il Conquistatore, nella fase 4, ha detto che lui non c'entra nulla e non ne sa niente, ma insomma non sarebbe la prima volta che Marvel Disney fa mentire un suo attore per nascondere un potenziale spoiler. Ora, è anche vero che nei fumetti, se non erro, Kang il Conquistatore è uno molto egomaniaco e forse non si nasconderebbe mai dietro dei fantocci, però non è detto che la fedeltà che ultimamente viene messa nei prodotti televisivi con i fumetti della Marvel, in questo caso, venga rotta in qualche modo per sorprenderci con questo tipo di colpo di scena. Però potrebbe anche essere Loki, un Loki, e tanto l'abbiamo capito che ce ne sono centomila di versioni e di varianti ed è il suo bello. Quale potrebbe essere però un Loki veramente super malvagio e veramente macchiavellico, come dovrebbe essere Loki, che ha ordito tutto questo e addirittura la TVA per destabilizzare chissà quale ordine della sacra linea temporale? Chi lo sa? Magari è un Loki che non abbiamo visto, magari è proprio quello del trailer, che a un certo punto vediamo con fare da politico. Ed arriviamo alla scena dei titoli di coda che è la vera bomba atomica dell'episodio. Dopo l'ennesima morte di Loki a cui non ha creduto nessuno, anche se è emotivamente molto forte, molto bene orchestrata e bella, Loki crede di essere morto e dice dove sono? Nel Hell? Cioè, l'inferno? Non re? No, dice dove sono? No, no, caro. Sei in una New York, probabilmente di qualche timeline, non si sa dove, semi-distrutta, si vede persino la Stark Tower semi-distrutta e arrivano altri Loki, le ennesime versione alternative di Loki che gli dicono vieni con noi se vuoi sopravvivere, un tipo di riferimento a Terminator, anche quello, ovviamente, viagge nel tempo come se piovesse. Ed è veramente bellissimo vedere il classic Loki, quello degli anni 60, interpretato tra l'altro da un attore di peso come Richard E. Grant che quindi, insomma, secondo me, un ruolo particolare lo rivestirà nei prossimi episodi. Quindi il primo mitico Loki creato da Stan Lee e Jack Kirby con i suoi bei mutandoni, i colori sgargianti, fa davvero piacere vederlo. Però c'è anche Kid Loki che è un personaggio effettivamente comparso nei fumetti nel 2011 in cui Loki moriva per l'ennesima volta e si reincarnava in un ragazzino e faceva tutte le sue belle cose da Loki ugualmente e qui è praticamente quasi identico a com'è nei fumetti. Probabilmente anche questo ragazzino ci farà qualcosa di interessante. E poi abbiamo un Loki boastful viene indicato nei titoli di coda quindi vanaglorioso che ha un martello in mano e quindi sembrerebbe una fusione Loki Thor ma magari non è così magari è una fusione Loki Heintal ma questo lo scopriremo solo vivendo anche perché non sembra che abbia una controparte nei fumetti così come non ha una controparte nei fumetti una cosa bellissima cioè il coccodrillino con l'elmo con le corda alla Loki che tiene in braccio Kid Loki e se tanto mi da tanto questo mini coccodrillo col copricapo alla Loki mi diventa un baby Yoda io voglio già il peluche del coccodrillo con le corna di Loki ultima cosa veloce veloce negli schermi della TVA a un certo punto si vedono due località nominate una è Wrightsville in Pennsylvania di cui però non sappiamo assolutamente niente e l'altra è Morag ovvero il pianeta dove Peter Quill nel primo Guardiani della Galassia si impadronisce dell'orb che contiene la Gemma del Potere questi possono anche essere riferimenti così gratis tanto per farci un po' piacere gli luoghi che conosciamo bene dopo un terzo episodio meno ricco ma non meno interessante questo quarto ci ha riportato una messe di cose super fighe senza contare la trama principale che sta diventando sempre più figa pollice su pollice giù commenti iscriviti attiva la campanella e ci sentiamo come sempre qui sul canale di Lega Nerd e ci sentiamo a te a te a te a te a te a te